Io non vedevo l'ora che arrivavano le Olimpiadi, aspettavo quattro anni per piazzarmi lì davanti alla televisione, o andare direttamente, quando si svolgevano nei posti più raggiungibili, o partecipare, in qualche caso, come è successo. Devo dire che anche questo piacere ci è stato tolto, caro Francesco, anche questo piacere. Perché quando tu partecipi ad un qualcosa, o sei partecipe a qualcosa, che deve essere aggregativo, che deve essere pacificatore, lo sport non nasce per dividere, lo sport nasce per pacificare. E quindi quando noi viviamo lo sport, lo viviamo per competere, per sfogare quella parte di naturale competitività che noi abbiamo in noi, ma sfogarla nello sport, cioè in un qualcosa che si è regolato. In una competizione dove esistono delle regole, uguali per tutti, dove poi esce fuori chi ha lavorato meglio. Non il migliore perché è migliore come persona, ma perché ha saputo allenarsi meglio, lavorare meglio, capire. Poi chi arriva secondo, terzo, quarto, quinto, anche ultimo, dovrà capire dove ha sbagliato, oppure magari potrebbe avere anche sbagliato sport, perché non tutti siamo uguali e non tutti siamo adeguati per fare gli stessi sport. Anche il nostro fisico, il nostro corpo parla, ci deve dire qual è lo sport più idoneo per noi. E quindi noi vinceremo se parteciperemo alle gare e ci alleneremo relativa allo sport che più si adegua al nostro fisico e magari anche alla nostra voglia di fare. E poi gareggiare con gli altri è meraviglioso perché poi tutti i confronti sfoghi nello sport quel tuo desiderio di competitività. Questo è lo spirito sportivo, le Olimpiadi, nate ad Atene, è lo spirito di partecipare. Partecipare ed essere partecipi insieme ad altre persone, molte delle quali non conosci, non ne condividi la lingua, le usanze, la religione, nulla. Ma in quel momento competere e poi abbracciarsi. Siamo tutti uguali, le guerre non dovrebbero esistere all'interno delle Olimpiadi e invece esistono perché ci sono degli atleti che non hanno una bandiera. Perché? Che c'entrano loro? Il loro paese, le origini del loro paese, la dignità del paese. Che c'entra con l'attuale governo che magari può commettere anche degli errori? Sì, ma che c'entrano loro? Perché? Privargli. Pensate a quei poveri ragazzi che si sono allenati, che si sono sacrificati e che adesso vanno lì e magari vincono o anche semplicemente partecipano e non vedono, non ci sarà negli archivi la loro prestazione con la loro bandiera accanto. Perché le guerre finiranno, ma poi questi obbrobri rimarranno, sono ferite che non puoi colmare. Perché? Pensate, anche i figli, i nipoti diranno, ma a mio papà, a mio nonno, a mia nonna, a mia zia, non hanno, al mio amico, alla mia amica, non hanno neanche consentito di freggiarsi della loro bandiera. Ma vi rendete conto quale oscenità, quale gesto violento di odio nei confronti di un popolo che non ha nulla a che vedere col suo governante o coi suoi governanti temporanei, protempore? Cosa ha a che vedere? Nulla. E perché gli devi togliere la bandiera? E come possiamo noi accettare? Le televisioni lo accettano, i governi lo accettano, le persone lo accettano. E noi guardiamo le Olimpiadi, così, tanti diciamo, ma che ma sti cazzi, poi alla fine, ma che mi frega dei russi. Capito? Non si fa così, non si fa in questo modo. Questa non è la società che noi vogliamo, una società fatta di mancanza di solidarietà. A me questa cosa fa ribrizzo. Io non guardo le Olimpiadi e mi dispiace perché amo lo sport, amo il gesto sportivo, ma mi rifiuto, mi rifiuto di seguire una competizione falsata, sia dalla sua presentazione, che ha offeso miliardi di cittadini, ed è inutile che cercano, quindi oltre l'offesa anche la presa per i fondelli. No, non la posso accettare, non si discute proprio. E poi dopo ci ritroviamo, i palestinesi sono 6, 7, 8, quanti sono? Sono pochissimi. Perché? Qualcuno si è domandato perché una delegazione è stata decimata. Qualcuno si domanda. Perché? Lì non c'entra niente? Lì tutto a posto? Lì le guerre si possono dire, ma quello provoca? Sì, allora le provocazioni di uni valgono, quelle degli altri no, le offese di qualcuno valgono, quelle degli altri no. Basta, no? Basta. Io sono veramente... Ecco, io chiedo solo l'ultima cosa a farvi su questo argomento, poi ovviamente parliamo di censura, e l'argomento del quale dovevamo parlare. Questa storia della bandiera, Fabio, tu sei un giornalista per un giornale che, insomma, è per la verità e quindi scrivi sulla verità, è un giornale, insomma, non certamente allineato, no? Con i mainstream. Questa storia della bandiera, ma è possibile che il cittadino non si accorge che è uno scenità togliere la bandiera ad uno sportivo, ad un cittadino che non c'entra nulla con le guerre dei potenti? Ah, il cittadino ormai è bombardato quotidianamente da quello che tu definivi prima politicamente corretto. C'è un testo interessantissimo, al quale mi sono molto appassionato, devo dire, l'ho letto un paio di volte, ed è la casta di Marcello Veneziani, dove va ad analizzare, applicato proprio nel periodo della pandemia, i condizionamenti sociali prodotti da questo politicamente corretto, che è più che un modo di fare, perché così poi alla fine ci viene proposto e così lo dobbiamo percepire, in realtà è l'imposizione di un pensiero unico, quindi dobbiamo pensarla tutti nello stesso modo sui vaccini, dobbiamo pensarla tutti nello stesso modo su qualsiasi azione politica, sulle guerre, e quindi oggi dobbiamo pensarla tutti nello stesso modo anche sulle Olimpiadi. Quindi già immagino che nessuno si porrà, o pochissimi si porranno la questione della bandiera dei russi, perché tanto non viene percepita come questione sulla quale interrogarsi, ma poi se qualcuno si interroga probabilmente si speccherà una reprimenda, si sentirà bollato come Putiniano, così come quando cerca di esprimere il suo pensiero su qualsiasi azione, diventa di volta in volta fascista, nazista, negazionista, oppure no-vax o addirittura terrorista, se decide di criticare lo Stato di Israele piuttosto che le azioni di Marx. Questo è quello che accade oggi, in questa informazione ormai purtroppo psicopatica, direi schizofrenica, dove c'è un canovaccio che se non lo segui, un canovaccio ovviamente scritto dalle élite, che tu devi seguire, se non segui quel canovaccio sei fuori e viene immediatamente bastonato. Lo vedremo fra poco, l'esempio delle Olimpiadi è uguale, perché anche agli atleti è impedito dire delle cose, fare delle cose, questo nel passato non accadeva, ovviamente, e vi posso dire perché c'ero anch'io. pensate che a Mosca nel 1980 nessuno si è mai sognato di venire a dire a nessuno che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. Mai. Proprio a Mosca, pensate un po'. Non l'avreste capito comunque, no? Ma nessuno... Perché noi eravamo scemi, scusa. È lingua russa, è una battuta, dai. Ma che c'entra? Poi sono gli uffici stampa che... Sì, la situazione era diversa. Che era diversa? C'era semplicemente libertà e punto e basta. No, c'era il boicottaggio da parte degli Stati Uniti. Sì, vabbè, ma quello... Beh, ma non mi sembra che ci hanno fatto una bella figura. Però vedi, il boicottaggio già è un gesto più coerente. Non ce vado, punto. Non ho che impongo, no? Ok. Anche perché gli si è ritorto contro, perché poi alla fine si è visto che non serviva a nulla. Tant'è che poi finalmente si è arrivati anche a... no? Ad una distensione. Perché proprio dopo quell'esperienza negativa dice, vabbè, ma che stiamo a fare, no? Però non è che qualcuno cancella la storia, la bandiera, l'onore di cittadini del pianeta che non c'entrano nulla con le guerre. I cittadini non c'entrano nulla. La sua bandiera andrà avanti anche dopo che questi governanti saranno morti, sepolti, eccetera. Quindi non vuol dire nulla. L'onore, il rispetto per il cittadino e quindi per la propria bandiera, per il proprio paese, non può essere cancellato perché il governante di turno sta facendo una guerra. Allora dovremmo cancellare tantissime bandiere in tutto il mondo. Ma prima fra tutto quelle degli Stati Uniti che stanno sempre in guerra. Ricordate, noi abbiamo trasmesso anche anche schiacce divertenti, pensate, di 40 anni fa, quasi 40 anni fa, io mi ricordo, uno schiaccio dell'87, di Troisi che abbiamo ritrasmesso tante volte dove prende in giro la bellicosità degli americani. Gabber, vogliamo parlare di Gabber? Quante volte lo abbiamo trasmesso?